In dieci di questi anni abbiamo governato. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto molto, molto bene. Senza mai mettere neppure una volta le mani nelle tasche degli italiani. Senza mai accettare che un provvedimento che restringesse la libertà dei nostri contadini avvenisse. Abbiamo reso l'Italia protagonista nel mondo, non per la nostra forza militare o per la nostra forza economica, ma per la nostra capacità di costruire relazioni importanti e di indicare la strada per la soluzione di conflitti internazionali.